Musica Lo spettacolo è stato meraviglioso, organizzato alla profezione, uno spettacolo completo. Mi è piaciuto tutto, è stata organizzata molto bene anche per uno scopo umanitario. Magnifica, stupenda, veramente superiore alle aspettative. Musica Perché l'inserata rende furbi. Cosa dici quando che uno si è furbo? E che a mangiare la foglia? Oh, when you find the Lord, when you find the Lord with me, the sun will shine, the sun will shine, the sun will shine. Vida a mare quanto è bello, inspira tanto sentimento. Come on, come on, come on, come on, come on. Dress up like a school, as everybody knows. A presto A presto